La Regione Toscana ha sottoscritto un'intesa con gli ordini professionali per mettere a disposizione alloggi per il personale sanitario che durante l'emergenza coronavirus deve allontanarsi da casa per preservare la propria famiglia oppure che è stato appena assunto. Le strutture alberghiere che hanno aderito saranno quindi disponibili per medici, infermieri e altri operatori sanitari positivi al coronavirus in forma asintomatica che necessitano di isolamento oppure che sono negativi al covid e vogliono continuare a lavorare alloggiando in una sistemazione diversa dall'abitazione dove vivono i familiari oppure che sono in fase di assunzione e hanno bisogno di un alloggio anche temporaneo per potersi trasferire da altre province in quella del posto di lavoro. Ha preso il via anche la prima fase di test sierologici per il coronavirus su un campione di sanitari dell'ospedale di Careggi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Enrico Rossi dopo che una piccola partita di test, circa 10.000 pezzi, è stata donata all'azienda ospedaliero universitaria Fiorentina. L'obiettivo dell'operazione è individuare in primo luogo gli operatori sanitari positivi al coronavirus che non manifestano sintomi ma che possono comunque trasmettere il contagio in luoghi ad alto rischio come gli ospedali. I primi test saranno utilizzati per effettuare una prima valutazione del dosaggio anticorpale fra medici, infermieri e altro personale ospedaliero. Quando arriveranno tutti gli altri kit, l'analisi sarà estesa a tutto il personale sanitario della Regione, circa 60.000 persone. Grazie a tutti.